La nave Ocean Viking ha soccorso 110 persone che si trovavano a bordo di un gommone sovraffollato in acque internazionali a largo della Libia. Tra i migranti, informa la ONG SOS Mediterranea, 11 donne di cui due incinte, un bimbo di un anno e 36 minori non accompagnati. Destinazione Porto di Ortona, sabato 11 febbraio. Secondo indiscrezioni, però non confermate né smentite, occorrerà attendere la riunione della Prefettura di Chieti nel pomeriggio. Sembra infatti che la ONG abbia effettuato altri interventi e da 110 migranti ne sarebbero sulla nave ora quasi il doppio. Tutto in fieri, ma il Porto di Ortona non è in grado, anche con la sua rodata macchina organizzativa, di accoglierne il doppio. Dunque la nave potrebbe essere condotta altrove in un porto più grande. Queste sono ore decisive. La SOS Mediterranea chiede di fare in fretta perché le condizioni meteo per i prossimi giorni non sono buone, attendendo l'ufficialità della Prefettura. Alcuni parlano di una sessantina di migranti a Ortona, sabato, ma fonti non ufficiali, comunque bene informate, affermano esserci problemi per la maggiorazione dei profughi sulla nave. A breve si avranno notizie ufficiali. E per Ortona sarebbe l'ottavo sbarco.